Non importa se molte vostre faccende sono da poco, l'allenamento è costituito non dalle cose che fate ma dal modo in cui le fate e il discepolato ne è il risultato. Il particolare genere di lavoro che dovete fare nella vita non ha importanza, ciò che importa è il modo in cui lo fate, l'attenzione che mettete nell'eseguire, le forze che adesso prodigate, l'allenamento che ne deriva per voi. Qualunque sia la vostra vita potete farla servire tale e quale al vostro allenamento. Per quanto umile possa sembrarvi il genere di lavoro nel quale siete occupati al presente, potete trasformare questo inutile allenamento per la mente. Potete per mezzo suo abituare la vostra mente alla concentrazione spontanea. Ricordate, una volta che avrete acquistata la facoltà potrete scegliere l'oggetto. Quando avrete padroneggiata la mente una volta per sempre, sì da poterla voltare qui o altrove a vostra volontà, allora potrete scegliere voi stessi lo scopo verso il quale indirizzarla. Ma intanto potete fare esercizio ed acquistare il controllo nelle piccole cose come nelle grandi, anzi, molto meglio in quelle piccole, perché esse fanno parte della nostra vita di ogni giorno, mentre quelle grandi si trovano raramente sul nostro cammino. Quando le cose grandi sopravvengono, tutta la mente si scuote per andare loro incontro, tutta l'attenzione si fissa su di loro. Ogni energia è chiamata alla riscossa per fare la sua parte, così che quando un imponente compito deve essere eseguito, ognuno può comportarsi bene. Ma il vero valore dello spirito è messo alla prova maggiormente nelle piccole cose, ove non esiste nulla che attiri l'attenzione, nulla che provochi gli applausi, ovvero l'uomo ponderatamente lavora per il fine prescelto e approfitta di tutto ciò che lo circonda per disciplinare se stesso. Questa autodisciplina è la chiave di tutto. Guidate la vostra vita mediante qualche piano, fatevi alcune regole entro le quali far scorrere la vostra vita. E quando le avrete fatte, attenetevi ad esse e modificatele soltanto dopo altrettanta deliberazione quanta ne fu messa nello stabilirle. Prendete quella cosa da nulla, dato che il corpo deve essere messo sotto controllo, quella semplice cosa di avere una regola definita per alzarsi dal letto la mattina. Fissate l'ora che voi giudicate più opportuna per il vostro lavoro, per i vostri doveri della casa e quando l'avete fissata, attenetevi ad essa. Non permettete al corpo di scegliere la sua ora, ma allenatelo all'obbedienza automatica ed attenta, che fa di lui il servo utile della mente. E se dopo qualche tempo di tale esercizio vi accorgete che non avete scelto bene, allora cambiate. Non siate rigidi solo perché cercate di rafforzare la vostra volontà. Siate pronti a cambiare ciò che non funziona bene, ma fate il cambiamento quando lo volete voi e dopo matura riflessione e non perché agite sotto l'impulso di un momento di collera o di desiderio del corpo o di qualche emozione che in quell'istante ha il sopravvento su di voi. Non fate il cambiamento ubbidendo alla richiesta della natura inferiore che deve essere disciplinata, ma fatelo se trovate che in un primo tempo la vostra decisione non è stata felice. Badate che nel regolare la vostra vita voi non dovete stabilire regole che diano fastidio a coloro che vi circondano o scegliere metodi di autodisciplina che intralcino gli altri o interrompano le loro occupazioni. Quando tutto questo è stato ben chiaramente riconosciuto come il mezzo più adatto per formare il carattere, il passo che viene subito dopo è quello dello studio del carattere stesso, poiché il vostro lavoro deve essere fatto con avvedutezza e non ciecamente. Se siete saggi nel giudicare il vostro carattere approfitterete senza dubbio di talune cose che i grandi esseri vi hanno elargite in fatto di profili di carattere e che vi porteranno alla porta del tempio. Potreste prendere per esempio la descrizione che viene data nel sedicesimo canto della Babagat Gita da Sri Krishna ad Arjuna in cui sono specificate quali dovrebbero essere le qualità che formano il carattere divino. Potreste servirvi di quello per rendervi conto delle qualità alle quali dovreste aspirare nella formazione di voi stessi e scegliere fra di esse quelle che desiderate di portare man mano a compimento. E se prendete per base di studio il sedicesimo canto in esso troverete molte qualità ognuna delle quali potrebbe benissimo servire per occupare il vostro costante pensiero e diventare oggetto della vostra ricerca dato che il carattere si forma prima per mezzo della contemplazione di una virtù e poi con il cercare di mettere in pratica la virtù che è diventata parte del pensiero con le parole e con le azioni nella vita di tutti i giorni. Ecco quali sono queste virtù. Per quanto lunga ne sia l'enumerazione abbiamo tempo sufficiente davanti a noi per acquistarle tutte ad una ad una. intrepidezza, purezza di cuore, perseveranza nello yoga della sapienza, carità, padronanza di sé e sacrificio, studio delle scritture, austerità, rettitudine, inoffensività, veracità, assenza di collera, rinuncia, tranquillità, astinenza dalla calunnia e dalla cupidigia, compassione per tutte le creature viventi, mansuetudine, modestia, assenza di irrequietezza, energia, lunganimità, fortezza d'animo, purezza, bonarietà, assenza di orgoglio. Queste sono le virtù che appartengono a colui che è nato ad un divino destino. Esse non diventano di colpo di sua proprietà ma un giorno vi apparterranno. Esse si acquistano lavorando alla formazione del carattere e se a vostro agio le rileggerete con cura troverete che si possono raggruppare sotto vari titoli e che ognuna di esse può essere praticata a tutta prima imperfettamente ma tuttavia con serietà d'intenti un giorno dopo l'altro senza mai scoraggiarsi per la mancanza di perfezione ma anzi con senso di gioia nel riconoscimento della meta ben sapendo che ogni passo viene fatto verso un fine che sarà raggiunto. osservate come fra esse scorrano i fili dorati dell'altruismo, dell'amore, dell'inoffensività. Guardate come il coraggio, la forza e la pazienza hanno anche loro un posto degno poiché danno al carattere un grande equilibrio e al tempo stesso lo rendono forte e tenero, indipendente e compassionevole. Chi possiede tale virtù è l'amico e l'aiuto dei deboli eppure verso se stesso è forte ed impassibile, è incapace di nuocere, pieno di devozione, di autodisciplina e perciò di armonia. Supponiamo che voi accettiate fino ad un certo punto questo ideale, quale regola per i vostri pensieri della giornata e che vi disponiate a cominciare il lavoro. Consideriamo prima di tutto un punto che di frequente si trova nel corso di questo sforzo, un punto che riassume da solo molte altre virtù e che si prestano un pochi malintesi. Soffermiamoci un momento su questa virtù collettiva e vediamo quale sarà la sua funzione nella formazione del carattere. Il suo nome può suonare strano alle orecchie occidentali, si chiama indifferenza e talvolta è spiegata dettagliatamente nel senso di indifferenza verso il piacere o il dolore, verso il caldo o il freddo, verso il biasimo o il applauso, verso il desiderio o l'avversione e così via. Ma cosa significa veramente? Prima di tutto significa quel senso di giuste proporzioni che deve far parte della vita di colui che ha dato sia pure soltanto uno sguardo al reale in mezzo all'irreale, al permanente in mezzo al transitorio, poiché una volta riconosciuta la grandezza della meta, una volta che l'aspirante ha compreso tutta la lunghezza del tempo a sua disposizione, tutta l'immensità del compito che si propone di raggiungere, tutta la grandezza delle possibilità che gli vede svelate innanzi a sé, quando ha afferrato sia pure una piccola idea del reale, allora tutte le cose di una vita fuggevole devono prendere il loro posto in rapporto al tutto. E quando sopravviene un dolore questo non ha più quell'importanza che avrebbe avuto all'epoca in cui egli credeva che vi fosse una sola vita, perché comincerà a comprendere che molti dolori egli ha già passati prima d'ora, grazie ai quali ne è uscito più forte e con maggiori capacità di pace. E quando alla volta della gioia egli si rende conto che molte felicità sono già state sue nel passato ed anche alla loro scuola ha imparato e tra l'altro ha compreso che esse sono transitorie. E così sia gioia sia dolore, quando si prestano a lui egli ne gioisce o ne soffre, anzi più acutamente di quanto possa fare un semplice uomo del mondo, ma sa contenere questi sentimenti e dar loro il giusto posto, il giusto valore e soltanto il valore reale che meritano nel grande piano della vita. A misura che lui cresce questa indifferenza non è che egli diventi meno capace di sentire, perché anzi diventa sempre più sensibile ad ogni palpito del mondo interno e di quello esterno, in quanto che egli si trova sempre più in armonia con il tutto, deve necessariamente diventare più risponsivo ad ogni sfumatura di armonia che in esso esiste. Ma nulla riesce più a scuoterlo, nulla può ormai cambiarlo, nulla può toccare la sua serenità, nulla può gettare delle ombre sulla sua calma. Il suo vero io è oramai radicato ove le tempeste non esistono, è trapiantato ove i cambiamenti non hanno luogo e mentre potrà avere dei sentimenti, questi non riusciranno a farlo cambiare. Prenderanno il loro giusto posto nella vita, con le dovute proporzioni in confronto all'intero corso della vita dello spirito. Quella indifferenza, quella vera e reale indifferenza che significa forza, essa come potrà svilupparsi?